Il panettone a mandarino è una peculiarità di Loison che da 20 anni produciamo per valorizzare le materie prime uniche che abbiamo in Italia. Il Tardivo di Ciaculli è un presidio slow food, ha una caratterizzazione unica essendo la buccia molto fine e molto aromatica e quindi riesce a andare al palato delle notte assolutamente interessanti e intense mentre con la polpa portiamo la dolcezza del mandarino. Quindi c'è tutto il frutto all'interno di questa deliziosa specialità dolciaria che noi produciamo e che ha un enorme riscontro dal nostro pubblico in tutto il mondo. Abbiamo diversi formati a disposizione nella collezione frutta e fiori abbiamo il mezzo chilo nella linea gold abbiamo 750 grammi e per qualche evento particolare se vogliamo fare un ottimo regalo ad un evento abbiamo Key Magnum da 3 kg che assicuro danno qualcosa di più ad ogni nostro evento. Trovate maggiori informazioni approfondite nel nostro sito oppure se volete acquistarlo oltre al vostro negozio di fiducia abbiamo anche il nostro shop online a vostra disposizione. Grazie per la visione!